Iniziamo con la scelta degli strumenti. Il consiglio di Microsoft sarebbe quello di usare direttamente il Visual Studio 2015 e sarà poi l'ambiente che io andrò a utilizzare. Però se per qualche motivo siete vincolati all'utilizzo del 2013, sappiate allora che andando a questo indirizzo, ma vi suggerisco a questo punto di cercare Microsoft Visual Studio 2013 Update 5 con Google, potrete scaricare il Service Pack 5 che è un requisito imprescindibile per poi installare gli strumenti per Cordova. E per fortuna è un pacchetto cumulativo, quindi comprendi anche i precedenti. Nei dettagli scopriamo che il file che verrà scaricato è piccolino, quel us2013.5.exe da 1.8 MB, che chiaramente non può rappresentare il vero aggiornamento, che sarà invece scaricato poi in automatico. E non trascuriamo tra i requisiti anche Windows 7 almeno aggiornato al Service Pack 1. Però per lo sviluppo per Windows Phone 8.0 avremo bisogno di una versione Windows 8.0 a 64 bit in versione professional o successive. E se volete sfruttare un emulatore invece di un dispositivo reale, avrete bisogno di un processore che supporta la tecnologia Hyper-V e SLAT. E se state pensando che il requisito sia un po' alto, avete ragione, in un certo senso Microsoft sta disincentivando lo sviluppo per l'8.0. Infatti appena sotto si nota che per lo sviluppo per Windows Phone 8.1 i requisiti calano. Sarà infatti sufficiente un Windows 8.1 per 32 bit, non professional o versioni successive. Ok, procedete al download. E appena dopo al lancio del setup. L'intera procedura, ve lo anticipo, è abbastanza lunghetta. Voilà! Riavviamo il PC e saremo pronti per scaricare i Cordova Tools. Che, volendo essere precisi, dovrei pronunciare Cordova. Il tutto è rimasto a uno stadio di Technical Preview, come si intuisce dal nome del file, ctp.cordova.technicalpreview.0.3.2 Notiamo come si è indicato il requisito che noi abbiamo già soddisfatto. Scaricate e fate partire il setup. A me non è nata liscia, non mi sono spaccato la testa perché in ogni caso la mia idea è quella appunto di usare la versione 2015. E passando alla versione 2015, che dovremo scaricare in versione Community, non esiste più il termine Express Community, corrisponde poi a quello. Vi consiglio di cercare la ISO, cioè l'immagine, che permetterà poi di installare da DVD, masterizzato oppure installato con un gestore di immagini, tipo i Demon Tools o il Virtual Clone Drive. Perché in questo modo l'installazione risulterà più spedita. In ogni caso, confido sul fatto che non dovesse essere rispettato qualche prerequisito, l'installatore da DVD provvederà comunque ad accedere ad internet. Attenzione, prima di cominciare l'installazione andate però a selezionare la casellina che corrisponde agli strumenti per lo sviluppo di app per dispositivi mobili multipiattaforma. Via con l'installazione. Al termine, fate riavviare il PC. Perfetto, siamo nella classica situazione della prima app Hello World File, nuovo progetto. Scendete a cercare la voce JavaScript e sotto Apache Cordova Apps blank vuota. Diamo un nome al progetto. Io personalmente non faccio creare la cartella della soluzione perché è un po' esagerato, insomma. È solo questo progettino. Nel pannello Esplora soluzioni avremo una vista logica di tutti i file raggruppati in cartelle che a volte hanno un vero e proprio corrispondente fisico su disco. Altre volte invece è solo una cartella logica che non esiste in realtà, ma che raggruppa i nomi dei file che sono in qualche modo logicamente collegati tra loro all'interno di un comune contenitore. Andiamo comunque a dare un'occhiata alla controparte fisica su disco di questo progetto. Fate clic con il pulsante destro e scegliete poi Apri cartella in Esplora file. Come vedete c'è una corrispondenza abbastanza precisa tutto sommato. La cartella www contiene in effetti CSS, images, script e la index HTML. Chiaramente nella cartella www sono contenuti tutti gli elementi che andranno a costituire l'interfaccia della nostra app. Come accennavo prima alcune cartelle contenitori sono solo logici. Non c'è nessuna corrispondenza con questo dipendenze e una cartella su disco. Ma è vero anche viceversa, abbiamo alcune cartelle come questa bin, bld con le build o questo .ws che non hanno corrispondente nella vista logica. Nella cartella mergers invece sono contenute tutte le cose specifiche per ogni piattaforma potenziale target del nostro sviluppo. Android, iOS, Windows, Windows Phone. E intendiamoci si tratta ancora di parti HTML, CSS e script e javascript. Ed è da queste cartelle che il sistema pesca alcuni file che verranno letteralmente iniettati in quelli generici generali che troviamo qua a seconda del target che andremo a indicare come piattaforma destinazione. Faccio un esempio solo un filino più concreto e scegliendo Android negli script troviamo ad esempio questo platform override javascript che verrà copiato qua negli script in corrispondenza di questo file che non a caso ha lo stesso nome. E qui leggiamo nella descrizione che gli override specifici, cioè questo dentro Android, se mettere come target Android o per una app Windows, il corrispondente platform override, nel caso dovessimo scegliere come piattaforma di destinazione appunto Windows. Ma fermiamoci qui e scegliamo quindi una piattaforma target, qui in alto nella drop down list casella discesa dove leggete Android e dove potreste scegliere una delle altre. Ripple, che si installa insieme al Visio Studio, è un emulatore basato su browser, è snello, ma allo stesso tempo abbastanza completo riesce cioè ad emulare una buona gamma di dispositivi hardware come l'accelerometro, il GPS, eccetera. Inoltre non richiede tutte quelle installazioni e volte configurazioni e lotte per farli funzionare dei vari emulatori di Google per Android o i requisiti piuttosto elevati del nuovissimo e bellissimo emulatore di Android direttamente da Microsoft, che comunque andremo sicuramente a provare nei prossimi video. Discorso analogo per l'emulatore di Windows Phone, per l'utilizzo del quale i requisiti sono solo leggermente inferiori. Per sviluppare per iOS è anche peggio, in quanto più per motivi legali che tecnici, toccherà avere anche un computer Mac sul quale installare un agente remoto, un software che dialogherà con la nostra istanza di Visio Studio. E per terminare, anche l'opzione di fare il debug direttamente su hardware reale potrebbe non essere conveniente visto il gran numero di possibili dispositivi diversi sui quali dovremo testare la nostra app. E qui ci chiude il cerchio, portando alla ribalta uno strumento come Ripple. Eccoci qua, ai lati del telefonino emulato, troviamo alcuni pannelli con i quali potremo cambiare le caratteristiche di questa emulazione, tra cui addirittura anche il modello al volo del telefonino o semplicemente la sua orientazione. Non tutte le scelte troveranno le librerie corrispondenti, perché attenzione potreste arrivare anche a bloccare il tutto, comunque poco male, al limite con il task manager potrete recuperare la situazione. Provo a scegliere un modello di HTC, cambiare l'orientamento. Qua sotto a sinistra la sezione per emulare gli input da parte dell'accelerometro, scuotere e shake il telefonino stesso non è un problema. Notate come il tempo reale, i corrispondenti valori di accelerazione, metri al secondo per secondo sui tre assi, beh in questo caso non proprio tutti e tre insieme perché è soltanto lungo l'asse X, ma agendo col mouse sulla rappresentazione del telefonino potremo imprimere in modo interattivo un'accelerazione lungo uno o qualsiasi degli assi. Notevole. Interessante anche la sezione sulla geolocalizzazione. Sarà possibile impostare o a mano o in altro modo i valori di latitudine, longitudine e altitudine forniti al telefonino. Questo heading è la direzione, speed è la velocità e per le simulazioni più accurate e più realistiche avremo addirittura la possibilità di fornire un file secondo il formato GPX che al suo interno nient'altro è che un XML in cui sarà possibile memorizzare delle tracce, dei percorsi, ciascuno comprendente uno più waypoint, cioè punti di passaggio. In pratica potremmo dire parti da qui, a questo latitudine, longitudine, altitudine, poi spostati qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi qui e potremo quindi proprio definire un percorso realistico e poi fa partire la simulazione, addirittura scegliendo anche la velocità anche se non ho ben idea quale sia quella di riferimento, forse questo 90, perché potremmo accelerare fino a 128 volte la velocità indicata qua. È un'ipotesi, dovrei ancora verificare. Torniamo all'ambiente di lavoro, chiudete o qui il browser oppure clic qua sul bottone stop. Penso che sia la stessa cosa, premiamo da qui. Yes. Ma proviamo ad aggiungere qualcosa di un pochino più concreto. Premetto che sono un'emerita schiappa a livello di design, di layout, per cui tutte le volte che potrò farò riferimento a qualche template già pronto all'uso. Anticipo che c'è la possibilità di integrare in Visual Studio con Cordova anche dei framework esplicemente dedicati al layout di Apple Mobile. Per cui dal nostro, o quantomeno dal mio punto di vista di programmatore, si tratterà soltanto di andare poi a programmare la logica di evoluzione da uno stato all'altro di queste app, e di aggiornamento naturalmente dei contenuti. Comunque, in generale, dobbiamo andare verso quello stile chiamato responsive, cioè che si adatta dinamicamente alle dimensioni del dispositivo su cui si trova ad essere visualizzato. E questo non è una cosa su cui ci si improvvisa. E chissà, prima o poi potrei decidere di fare una playlist dedicata proprio a questo. Ovvio che mi appiccicherei a qualche tutorial di qualche guru, qualche libro, qualche testo, come si deve, altrimenti, solo con le mie forze, non ci sarebbe davvero speranza. Comunque, per i pigri vedrò di mettere un link a uno zip con dentro sia il file HTML che il suo CSS. Ho fatto del mio meglio per arrivare a un'interfaccia che sia, quantomeno, non ripilante. Ed ecco il risultato. Lo scheletro di quello che dovrebbe, seguendo gli esempi direttamente dal sito Microsoft, portarci a sviluppare una piccola app in grado di richiedere al servizio metodi Yahoo le informazioni con cui aggiornare i dati qua sotto. C'è un primo div che corrisponde a quest'area con l'azzurrino con dentro il titolo cammeteo. A seguire un secondo div che corrisponde a quest'area che ho definito di input. Il campo di input, questo, la sua etichetta e il classico bottone, eccolo qui. Ovviamente nell'index CSS abbiamo la formatazione, questo per il titolo, sotto quella per l'area di input in generale e questo font size che va ad attribuirsi sia al bottone che alla casella di testo che all'etichetta. Mi perdonerete, non sono stato a rendere tutto coerente per cui è il risultato di prova-riprova per intenderci. L'area con i dati della temperatura, umidità, eccetera, l'ho realizzato con un ulteriore div che contiene una lista non ordinata, questo UL. Ogni item, ogni list item, contiene un'immagine, immagine che ho messo qui, dentro cartelletta images. Vi ricordo che non è necessario scrivere personalmente il tag IMG, basta trascinare da qui a qui e l'editor compilerà automaticamente quel tag IMG. Ogni list item contiene l'immagine, poi un titolo H3, il temperatura e il dato. Adesso non vi tedio con tutta la parte, sulla formatazione ci mancherebbe, però ci tengo a mostrare come una modifica nel foglio di stile ma anche nella parte index.html verrebbe una volta salvato il file automaticamente rispecchiata nell'anteprima in Ripple. Ad esempio, proviamo a cambiare il colore, no, questo è, sì, anche del titolo, non importa colore da blu a russo, salvo e in tempo reale ecco la modifica. Magari qualcuno tra voi ha già installato sul PC un emulatore Android di Google o vorrebbe provare addirittura a collegare al PC il suo terminale Android e scegliere qua appunto il deploy, la distribuzione sull'emulatore o sul dispositivo. Ci sono due particolari da curare. In tutti e due i casi, emulatore o dispositivo fisico, dovremmo prima provvedere a configurare l'ambiente Visual Studio per firmare il punto APK, cioè il file compresso che contiene l'applicazione da distribuire sul dispositivo o sull'emulatore. Di questo però parleremo nel prossimo video. Nel frattempo potreste portarvi avanti nel caso il vostro obiettivo fosse invece quello di provare la app su un dispositivo fisico reale. Andate a cercare nell'elenco delle playlist sul mio canale quella su Android Java playlist 4 Android Cerco magari di ricordarmi a mettere una scheda che linka direttamente a quel video. Beh, la lezione numero 4 spiega proprio come installare i driver a seconda del tipo di telefonino che si ha. Senza driver, Visual Studio non riuscirà infatti a dialogare con il telefonino. Finito. Nel prossimo video vi spiegherò come scaricare, configurare BIOS, Windows e quant'altro per far funzionare il nuovo emulatore di Android di Microsoft. Bisognerà verificare se il vostro PC processore ha i requisiti per supportare l'emulatore stesso. Dovremmo attivare il supporto alla tecnologia di virtualizzazione di Microsoft Flyper V. Insomma, di carne a fuoco ce n'è parecchia e di inghippi altrettanto come vedrete. Ah sì, dimenticavo. Vi ho promesso. Vi spiegherò anche come far firmare le app Visual Studio. A risentirci. diplomatico. Toi.